Mi chiamo Federico Bellone, sono il produttore esecutivo e il direttore artistico di questa versione dello spettacolo. Allora, benvenuti, grazie a tutti di essere qui oggi alla nostra conferenza stampa. Dovete sapere che in primavera, la scorsa primavera, abbiamo indetto un banco di audizione pubblico per formare il casto di questo spettacolo, ovviamente oltre che a invitare professionisti rinomati del teatro musicale e del teatro di prova. Abbiamo visto, abbiamo esaminato 1147 candidati singolarmente, uno dopo l'altro, grazie al nostro team italiano di supporto, formato da Simone Leonardi, il nostro regista associato per l'Italia che riprodurrà la regia originale della versione inglese, a Simone Giusti che è il nostro direttore musicale, a Gayle Richardson che è la nostra coreografa associata per l'Italia e anche ovviamente al team internazionale che ha il compito di rientrare in scene tutto il mondo lo spettacolo, che in questo caso Buon Italia è rappresentato dalla supervisore artistico e dalla coreografa associata Jackie Bix, che è qua con noi, ha decretato il cast finale dello spettacolo che conoscerete tra un attimo. Per presentarvi il nostro cast abbiamo pensato di mostrarvi un piccolo numero tratto dello spettacolo che abbiamo provato nei giorni scorsi, si tratta del numero Do You Love Me? che nel film è estremamente iconico, è il momento in cui Baby, la protagonista, sta passeggiando sicuramente lo ricorderete, perché per sorte nel quale è in vacanza e si imbatte in Billy, che è il cugino di Johnny, il protagonista, che sta portando dei cocomeri e offre aiuto per portare dei cocomeri e entrambi finiscono in questa festa nell'area riservata al personale dell'albergo, quindi proibita in realtà agli ospiti, dove sta appunto accadendo, come dicevo, una festa. Una festa dove ovviamente c'è solo una cosa che non può mancare, che è Dirty Dancing. Quindi signori e signori, un bel applauso al cast italiano dello spettacolo Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!